anche sotto il profilo economico, ma non solo, e quindi devo dire che a loro va anche un grande appalaboso. Ma a questo punto non mi resta che ritornare dalle parole alla musica e presentare quello che per me è non solo un sensibilissimo artista, cantautore, ma anche un grandissimo amico. Quindi io pregherei la magia del Sipario di regalarci il palcoscenico del Teatro Principe e quindi la musica di Fabio Nero. Grazie.